A noi di incaricare un tecnico è stato richiesto dal comitato di tutti i sindaci, lo abbiamo fatto, abbiamo chiesto una localizzazione, anzi più localizzazioni e la comparazione con quella che originariamente era stata indicata dal Consiglio Comunale. Poi il Consiglio Comunale è sovrano, ciascuno fa le sue scelte e noi abbiamo soltanto voluto dare gli strumenti per compiere una scelta consapevole.